Salve ragazzi, è Teo che vi parla, benvenuti nella domenica random, video random della domenica dove vi voglio portare un po' di Watch Dogs tranquilli, non vi sbaglierò niente, è la storia principale, anche perché l'ho finita voglio solamente cazzeggiare un pochettino nella città di Chicago ho ancora molto da fare, mi piace questo gioco e... voglio un pochettino pensare alle cose secondarie da fare, ce ne sono parecchie e... qua ho il nascondiglio qua ci sono le indagini, cos'è che stavo facendo? stavo cercando le casse di armi e... sì mi sembra che io debba andare alla... alla metropolitana quindi devo andare di qua eh, per il momento Fraps mi tiene bene il gioco, dai non troppo, sto gioco un po' pesantino anche perché è un computer che non è molto recente, quindi non ho comunque pezzi di altissimo e rilevantissimo livello, ma è un computer normale no giuralo tanto dato che l'hai detto e mi fottuto sui soldi in banca eh, andiamo fino a qui Stavo indagando sulle casse d'armi Che è una rottura di palle Perché non riesco mai a trovare bene i conti Per sbloccare le porte Adesso vi mostrano anche le mie abilità di guida su questo gioco Ritorniamo in Need for Speed Carbon Con il rallentamento del tempo No scherzo, è solo la concentrazione di voce Da Hugs Oh Cristo Che bugiardo Che bugiardo Beh almeno l'hai scoperto È un maiale, dovresti vedere cosa mette sul suo sito Non puoi lasciar perdere Lassar perdere, mi vedo con la moglie per pranzo Comunque riproviamo, risaliamo, rivediamo cosa possiamo fare Ah, se possiamo salire di qui sono un idiota No, sì possiamo Vafanculo Vafanculo dai, così facile Sblocca E la va lì, va lì Che forte che sono Tentiamo il suicidio Da qui Bene Scusa posso accararti Ok, benissimo Yes Ecco le armi Dove? Dai, so che c'è Due blackout, minchia buono Pazzesco Ok Una è andata Adesso vediamo cosa potrei fare Potrei fare tipo un convoglio criminale Sì Sì avete visto sono un ragazzo dalle poche pretese io eh E quindi tossico e riabilitazione Riabilita Deo sa parlare a quanto pare Ah, un criminale Quindi io mi prendo il macchinino piccolo Io te lo giuro non stavo, sai che sento l'odore delle bugie Pozzano di me Ehi andiamo Eh, andiamo Headshot bitch No, no, no Il cavo della banda No, perché? Fallo fuori subito Ah è Zen007 Perché mi devi rompere i coglioni così tanto Dove sei? Ti prego vieni fuori Ah mi sta abbedinando? No dai Aspetta non voglio profilare Il bersaglio non ci arrivo nemmeno sopra Ok Qui non possiamo scavalcare Male male Aspetta se io faccio così Volendo l'ascensore Arrivo fin qui Posso profilare la gente Tecnicamente si ma non ce n'è Bello Grande E ai prossimità scansione Anche sono ancora Sono tutti di sopra Bene ho mancato un piano Prossimo piano È il mio Perché non ci sono le telecamere Renderebbe tutto più facile Un problema perché potrebbe Chiamare rinforzi Ah Quindi Bisogna stare un po' attenti Attiviamo l'antifunto Quindi io non devo uccidere nessuno Ok disabilità mi rinforza È vero Ho l'abilità quindi la uso Piano 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 Neutralizzazione Più 80 Grazie Sono tutto io Nell'abilità Ah ho 4 punti disponibili Ho finito l'hacking Ho finito il fai da te Cosa posso fare Combattimento Guida Io direi guida È meno probabile che scopriano i pneumatici Per migliorare la manegge Ma aspetta Maneggevolezza Fuoristrada Herbes è sterrato Ma me ne frega niente Quel combattimento Cos'è questo? Ammuntare i danni degli shotgun Contro i veicoli Ma sì Che se ne frega Non li ho mai usati Rallenta il tempo Durante la concentrazione Oppure riduce sensibilmente I danni subito L'esplosione Concentrazione tutta la vita E mi avanza un punto Che io non posso utilizzare Da nessuna parte Va bene Ok Vediamo se Riesco A Stendere qualcun altro Prima profiliamo Profiliamo Un attimo Allora Questo qui Non c'entra niente Quello lì Potrei Attaccarla All'improvviso Questo Gli posso far la sorpresa Ma dovrei Sbrigarmi Ok Esco da qui Vabbè Senti Io Me ne sbatto un po' le palle E non lo so Cosa abbiamo Oh Ha lasciato i big money Ehi E quello che cazzo Tac 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 Va bene Profiliamo Vediamo se lui Sabito i rinforzi Ok bene E muori Vediamo Tu Centri qualcosa Non lo so Sì sono abbastanza lunghine queste Missioncine Ehi 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 Stavo rischiando Tac Riparo Andiamo a riparo Andiamo a riparo Ha piazzato una bomba in una scuola alimentare Cosa? Oh madonna Addirittura Distraiamo con questa esplosione E nel frattempo che loro vanno lì a vedere Io Vado Prendiamo qui nell'angolo Bello Andate a cercarlo Bellissimo Ha fatto la minchiata Bang E anche l'ultimo E' andato Bene Si è tutto mio Tac Catturato E punto abilità ottenuto Avremo l'albero dell'abilità Adesso abbiamo altri punti Che posso utilizzare Qui Qua mi dice Danni dalle esplosioni Vabbè dai Prendiamo quello degli shotgun Poi vediamo qui 5 punti Stabilità del mirino nei fucili di precisione Raggiungi la quinta ondata di NVZN Per sbloccare Blablabla Comunque ce l'abbiamo fatta Bene Possiamo comunque fare altro Ora Vediamo Con la mappa 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 Fortunatamente non è tanto distante Quindi Proviamoci Ad andare Volo giù in macchina Vabbè ci provo Yippee Yes Ok non mi sono fatto quasi niente Ho solo preso Un tizio che era lì Poverito Scusa Non volevo Quindi Ehm Tubatura del favore No Mi tocca Lascia perdere Scarso Buu Lo farò Pian pianino Li farò Macchina figa Vai fuori Fuori dalla macchina Fuori 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 Una cosa seria Una cosa seria Oh dai ragazzi Come primo episodio Prova Penso che Possa andare bene Almeno credo Non so se a voi Vada bene Fatto così Fatemolo sapere Con un commento Qui sotto Quindi Vi saluto Per la prossima domenica Un nuovo episodio Di Boh Devo ancora decidere Come chiamarlo Porca puttana vacca Come stavo dicendo Devo ancora decidere Come chiamarlo Ma spero che vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Mettete un bel mi piace Un commento in iscrizione Ci vediamo un altro episodio Domenica prossima Con altri giochi Un saluto a te Ciao ciao Ciao